Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaia. Oggi vogliamo ancora sottolineare la deficienza cronica che c'è soprattutto nel reparto di cardiologia che come si sa è chiuso da un bel po' di tempo e pone veramente delle difficoltà enormi. I dei hospital si lamentano i cittadini, non è possibile farle. Soprattutto le emergenze non possono essere curate in una struttura come quella di Battipaia che è vitale ed è strategica nella piana del Sile. Ecco per cui c'è questo grido forte del cittadino medio che vuole a tutti i costi che sia ripristinato questo servizio. Da quanto ci è dato sapere il tutto dovrebbe risolversi con l'assunzione di altro personale per la metà di settembre. Ma speriamo che la cosa venga effettivamente realizzata e finalmente Battipaia abbia, soprattutto per il suo ruolo strategico, la sua cardiologia.